Diciamo che in questo momento il cuore palpita a mille perché finalmente possiamo riaprire le porte del nostro comune per le numerose rassegne che vedono durante l'anno Cavour protagonista. La prima sarà proprio la 22esima edizione di Cavour carne di razza piemontese, quindi una rassegna che è dedicata al mondo dell'agricoltura ma che in realtà porta questa importante razza di bovini all'attenzione di tutto il mondo perché poi chiaramente si riflette nella parte della ristorazione, nella parte del commercio locale, quindi per noi è un elemento molto importante. Vi aspettiamo a Cavour il 24 e il 25 aprile prossimi, ci saranno due giorni quindi dedicati alla regina che è la carne di razza piemontese, ci sarà la parte di esposizione dei bovini dove circa 20 allevatori esporranno i loro capi, avremo un centinaio di animali che sarà possibile a tutti quanti prendere visione delle qualità di questi animali. Ci sarà poi la fiera lungo le vie del paese e momenti di attrazione per tutti quanti. Il momento non è facile, ci sono preoccupazioni per quello che sta accadendo nel mondo ma che poi si riflette anche nella nostra realtà, quindi anche il mondo dell'agricoltura è colpito dalla crisi sociale, la crisi economica che si sta ripercuotendo su tutto il territorio. Chiaramente noi siamo pronti e dopo due anni di stop forzato con la prologo protagonista si parte con questa rassegna e quindi si vuole rilanciare proprio il nostro comune ma non solo Cavour ma anche i comuni della zona. Di fatti partecipano alla rassegna anche tutti i comuni che sono vicini a noi e anche loro in collaborazione con i loro sindaci, amministrazioni e gli allevatori parteciperanno sul nostro territorio. Quindi noi ci poniamo con le nostre risorse naturalistiche, storiche, culturali e gastronomiche, ci poniamo sul territorio e andiamo ad avere un turismo che sia continuativo nel corso dell'anno. Chiaramente non si può competere con grandi realtà però sono tanti piccoli tassieri che invece possono comporre un percorso che può offrire ai turisti la possibilità di vivere delle giornate sui nostri territori spostandosi tra un comune e l'altro dove ogni comune è protagonista con le proprie risorse. Il 23, il 24 e il 25 di aprile ci sarà Cavour Carne di Razza Piemontese quindi chiudiamo di nuovo il paese, il centro storico che diventa una grande isola pedonale. Quindi potete passeggiare in tranquillità lungo le strade del centro storico, visitare i negozi, ci saranno diverse numerose bancarelle e poi quando avete finito la passeggiata se avete fame potete venire sotto l'ala del gusto qua di fianco al comune e lì potete assaggiare tutti i prodotti che cuciniamo noi con la carne di razza piemontese quindi il gran bollito misto, la tagliata e tutti gli altri prodotti genuini e a chilometro zero. Siamo in vetta della rocca di Cavour, Cavour è un paese di 5.700 abitanti circa che dista 45 chilometri da Torino a metà strada tra Torino e Cuneo passando da Pinerolo. È un paese a vocazione agricola, ci sono delle eccellenze di produzioni locali quali la frutticoltura e l'allevamento di razza piemontese. Cavour si trova al primo posto in provincia di Torino con il maggior numero di allevamenti di capi di razza piemontese allevati. Allora a Cavour ci sono tantissime realtà di attività agricola locale, dalle aziende di frutticoltura perché la frutticoltura è un tassello principale in questo nostro comune, l'allevamento specie questo di razza piemontese, poi ci sono le aziende di Campania Mica, gli agriturismi, un'agri macelleria, tutti comunque collegati anche a Campania Mica. Proprio per farvi conoscere la realtà di allevamenti di razza piemontese che c'è in questo territorio, adesso Coldiretti vi porta a visitare queste tre aziende, dove potremo vedere l'attività di allevamento chiedendo a chi effettivamente questo lavoro lo fa ogni giorno della settimana, a chi dopo fa la lavorazione di questa razza piemontese, quindi vedendo la sezionatura di un vitello e chi questo lavoro, questa carne così pregiata, la porta in tavola. Si tratta di un allevamento di bovini di razza piemontese a rimonta interna e questo vuol dire che tutti i capi che noi abbiamo all'interno delle nostre stalle nascono dalle nostre fattrici, non compriamo altri bovini da altri allevamenti. Una buona parte delle materie prime che noi utilizziamo per l'alimentazione dei nostri capi vengono prodotte grazie ai nostri campi e mi riferisco a mais, insilati e foraggi, quindi noi grazie ai nostri campi riusciamo a produrre tutto il quantitativo di cui abbiamo bisogno. Il ciclo dell'allevamento è a ciclo chiuso, si incomincia con la nascita dei vitelli dalle nostre fattrici che concludono appunto il loro ciclo di vita a circa 18 mesi di età, quando vengono venduti e raggiungono un peso mediamente di 80%. Dopo l'ingrasso, quando gli animali sono pronti per la vendita, vengono venduti alla compra al di Cuneo. Una cosa a cui noi teniamo molto è rispettare il benessere animale, quindi proprio per questo motivo gestiamo i nostri capi a stabilazione libera, quindi sono liberi di muoversi in box o nei recinti esterni alle stalle e questo per l'animale significa minori situazioni di stress che influisce sul miglioramento delle prestazioni produttive e sulla qualità del prodotto finale, quindi la carne. Siamo la famiglia Chiabrero, questa è un'azienda a conduzione familiare, noi alleviamo le piemontesi da circa una trentina di anni, anche più. Mio papà faceva già questo mestiere, quindi noi abbiamo continuato con questo lavoro. Lavorare all'interno della nostra azienda agricola per me è un lavoro molto importante perché comunque ci sono delle lavorazioni molto difficili, io essendo una ragazza fatico di più in determinati lavori, però comunque credo che ci metto tanta passione, quindi riesco comunque a superare tutte le difficoltà che posso trovare facendo questo lavoro. Principalmente in azienda mi occupo di lavorare i campi per produrre le materie prime che poi usiamo per l'alimentazione dei capi piemontesi. Mi piace lavorare in campagna perché più che altro è a conduzione familiare, quindi è una cosa che dà soddisfazione e poi è una passione. Sono coadjuvante anche nell'azienda con mio marito e i miei figli. Oltre a mangiare gli animali, seguire gli animali, io praticamente registro anche, mi occupo della burocrazia, registro le nascite, le fecondazioni, le vendite e registro mangime, registro farmaci, e poi ci seguo tutte queste cose un po' più burocratiche. Diciamo che secondo me lavorare tutti insieme così è una grande soddisfazione per il risultato che poi si ha, il risultato finale, nel senso che uno ha comunque interesse perché porta avanti l'azienda in familiarità. C'è il pro e il contro però è comunque soddisfacente la cosa. Sono cotitolare con mia moglie e mio cognato dell'azienda agricola dei fratelli Camusso, qua a Caur, in frazione Babano. Noi siamo, da più di vent'anni abbiamo aperto questa macelleria, facciamo la vendita diretta, produciamo la maggior parte dei foraggi e cereali che vengono usati nel nostro allevamento e poi abbiamo questa, diciamo, attività, siamo anche agri-macelleria, campagna amica. Ci troviamo di fronte ad alcune parti significative di una mezzena di razza piemontese, di carne pregiata piemontese. Che parti sono? Qui abbiamo svariati tagli, abbiamo il primo taglio, ho detto noce, di coscia, che è un taglio che va bene a fare sia al burro che impanate, rolatine o scaloppine. Poi abbiamo questo qua, che è la fesa, un altro taglio anatomico di coscia, che va bene anche questo a fare burro, impanate, scaloppine, rolatine oppure pizzaiola e se piace a sangue anche un po' i ferri. Dopodiché abbiamo il sottofiletto, che praticamente sarebbe il dorso dell'animale. Qua sotto abbiamo il filetto, poi ci sono le ossa e la punta verso il collo dove vengono tagliate le costate. Questa va bene a fare sia al burro oppure ai ferri e poi abbiamo la costata classica, questa qua che invece la morte è su e sulla braccia. E poi abbiamo, dolcissimo punto, il brutto e buono, che va bene a fare o un bollito oppure cichillo fa arrosto o altri che fanno lo spezzatino. Questo è il primo taglio, va bene a fare bistecca al burro ed è un taglio molto magro e si presta di più a una cottura col burro perché ha pochissimo grasso al suo interno. E poi abbiamo la costata, questa si presta molto di più a fare una bistecca sulla piastra oppure ai ferri perché è un po' più marezzata in questo angolo qua e quindi resiste una cottura un po' più lunga sulla braccia. Allora, l'amarezzatura è questa, praticamente sono questi fasci qua di grasso che sono un valore aggiunto su queste bistecche perché rendono la carne più morbida e più facile da masticare e anche molto più gustosa. Qual è il pezzo che consiglieresti, anzi che utilizzi per fare la carne cruda per i tuoi clienti? Allora, ci sono svariati pezzi che si possono prestare per fare la carne cruda ma io, anzi noi di solito usiamo dei ritagli di coscia dei pezzi che magari essendo verso la fine le fettine non escono più belle e allora li usiamo per fare la carne cruda. Abbiamo magari un pezzo di questa coscia qua oppure questa o magari un pezzo di in fuori che può essere usato per fare la carne cruda e tutti si prestano bene a fare sia la carne cruda che la battuta perché la caratteristica della carne cruda è una carne meno grassa che non ha nessuna fibra all'interno, nessun tipo di nervetto e quindi va benissimo per essere o tritata oppure battuta al coltello. Parliamo del famoso pezzo delle costate che sarebbe la punta del sottofiletto verso la testa dell'animale ci sono svariate misure e gusti per tagliare queste bistecche parliamo da un minimo di così io più sottile non la farei mai perché altrimenti diventa asciutta a chi la fa così un consiglio che io do ai nostri clienti che magari la vogliono non troppo al sangue è quella di farsi fare una bistecca così accendere la bistecchiera e poi non riporla via tenerla sempre lì se magari un pezzettino è leggermente più rosato più rosso che non vi aggrada tagliate un piccolo pezzettino e lo fate ancora scaldare quei 5 secondi altrimenti rischiate di mangiare una bistecca anzi un trancio di bistecca che è asciutto e non la assaporate bene allora con l'aumento delle materie prime con l'aumento dei fertilizzanti per chi deve produrre in campo allora voi temete che si riducano drasticamente i margini di guadagno per il vostro prodotto? purtroppo sì, i margini di guadagno non mai sono all'osso quando non siamo al di sotto dei costi di produzione tutto è caro, tutto costa al giorno d'oggi dai carburanti, i cuncimi come ha detto lei non riusciamo ad andare avanti per fortuna che la maggior parte delle nostre aziende si autoproducono il foraggio e le materie prime però comunque non riusciamo ad andare avanti anche perché il nostro è un lavoro impegnativo noi siamo impegnati sabato, domenica, capodanno, natale e al giorno d'oggi non riusciamo a sbarcare un lonario e soprattutto chi vende magari ai macellatori, alle grandi costruzioni quando ha un vitellone finito dopo tutto questo lavoro che magari ci sta rimettendo qualche soldino magari si vede anche togliere chi il 2, chi il 3% ma quando io vado a comprare quel concime quel carburante che mi serve per far venire i miei prodotti nella nostra azienda nessuno mi toglie o il 2 o il 3% andiamo a preparare l'onzino di vitello alle erbe quindi si parte con un pezzo della coscia di vitello si impana nelle erbe aromatiche dell'orto si sfrega per bene ok dopodiché si passa nel sale anche qui si ricopre per bene e per ultimo lo mettiamo a riposare sempre sotto sale per almeno 3-4 giorni e lo lasciamo qua a riposare in un luogo fresco sotto sale e questo è l'onzino di vitello alle erbe che abbiamo lasciato riposare sotto sale ha assorbito bene il sale i sapori delle nostre erbe aromatiche dell'orto da fuori è diventato più scuro all'interno sarà un bel colore rosso carne allora dopodiché viene affettato molto finemente questo è il suo aspetto finale lo serviamo solo con dell'olio extravergine d'oliva sopra ecco voi una delle nostre specialità è la battuta di Fassona piemontese è un pezzo di coscia di vitello che noi andiamo a tritare finemente a noi piace farla molto fine poi lo condiamo con uno spicchio d'aglio tritato finemente anche lui dopodiché aggiungiamo un pizzico di sale una spolverata di pepe un filo d'olio e una spruzzata di limone mescoliamo per bene a noi piace servirla su un letto di valeriana a forma di pallina accompagnata dal limone Al prossimo episodio